14, Bedulita, Bedulita Gruppo compatto Che lunga Circa 10 km Di soli Corso 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 hai corso ieri Sergio no bravo ho lavorato quindi hai corso giusto giusto quindi hai corso al lavoro sì settimana scorsa poi hai corso anche settimana scorsa sì eh come è andata anche martedì pomeriggio minchia sarei qui un'atleta se passi giovedì ti faccio vedere l'invernale ho lì due capi da farvi vedere sei carico sei carico per oggi basta se non rispondiamo passatevi in pace cerca di demolire gli avversari così ahahahah ci sono Buon appetito! 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 Buon appetito!